Carissimi amici e amiche, bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai vizi capitali e alle virtù cardinali e teologali, che questa sera comincia un nuovo capitolo dedicato alla virtù cardinale della giustizia, una di quelle maggiormente popolari, se vogliamo, per certi aspetti, ma come vedremo ci regalerà diverse sorprese. Io ricordo bene quando Lessi di questa virtù nella sua teologia rimasi altamente edificato, perché fanno parte di questa virtù delle realtà che personalmente io non pensavo neanche che ne facessero parte. E poi perché la forma più bella, la forma più alta di questa virtù, come vedremo, è quella che riguarda la giustizia verso Dio, cioè l'altissima virtù che si chiama la religione. Ci prenderemo tutto quanto il tempo necessario. Questa prima puntata chiaramente sarà innanzitutto introduttoria e poi, finita, vediamo quanto dura l'introduzione, comincieremo a entrare subito nel merito. Prima di introdurre proprio anche le definizioni della giustizia, voglio fare subito una premessa. È impossibile per questa virtù, a differenza che per le altre, andare a fare un escursus biblico, perché dovremmo leggerci praticamente tre quarti della Bibbia per parlare della virtù, appunto il cardinale della giustizia. Anzitutto, nella saga scrittura compare chiarissimo, comparevano chiarissimi alcuni concetti, quindi faccio un pochino una sintesi generalizzata, perché altrimenti sarebbe impossibile, no? Chi è il giusto per quanto riguarda gli uomini? Il giusto è quello che ubbidisce a Dio. Nella saga scrittura, giusto è chi ubbidisce a Dio, alle sue leggi, ai suoi decreti, agli statuti, ai suoi comandi. In ebraico ci sono varie terminologie per esprimere le varie gradazioni con cui si manifesta la volontà imperativa di Dio, nel senso, quando Dio comanda qualcosa. Un comando che certamente lascia liberi, per questo che la giustizia è una virtù, perché se fossimo costretti non sarebbe una virtù. Però adeguarsi alla legge e alla volontà di Dio è nella Bibbia la virtù per antonomasia. È chiaro che questa virtù comporta anche, quindi, comporta l'adempimento perfetto di doveri verso Dio e di doveri verso il prossimo, perché la volontà di Dio si manifesta, si estrinseca proprio, questo si può dire già per esempio nel libro dell'Esodo, nel libro del Levitico, del Deuteronomio, con i codici delle alleanze, i progetti riguardanti di Dio e i progetti riguardanti del prossimo, si estrinseca in tutto ciò che riguarda i doveri sia verso Dio sia verso il prossimo. Però c'è un altro aspetto fondamentale, che nella Sagra Scrittura il giusto per antonomasia, anzi il solo giusto in senso forte, è Dio. Quando si parla di giustizia, la prima giustizia è la giustizia divina. E la giustizia divina, quando si parla della giustizia divina, anche nella Sagra Scrittura, si parla della giustizia divina nel senso della retribuzione. Allora, vedremo adesso che la più grande definizione della giustizia è dare a ciascuno il suo. E Dio non solo che dà a ciascuno il suo, ma lo dà in maniera perfettissima, perché solo Dio sa qual è veramente il suo di ciascuno. Cosa significa, detto in termini più comprensibili? Se tu fai il bene, Dio ti ricompenserà. Se tu fai il male, Dio ti punirà. Quindi, questo è un'idea che noi l'abbiamo perfettamente, diciamo, proprio stampata nel nostro cervello, perché questa è la giustizia. La giustizia esige che il bene riceva un premio, il merito riceva un riconoscimento, e che il male sia punito. E' una retribuzione in senso stretto. Molti oggi, come dire, presumono di poter bypassare o far dissolvere la giustizia di Dio nella sua misericordia. Ma questa è un'operazione completamente insulza, perché giustizia e misericordia in Dio sono entrambe presenti ed entrambi operanti. E entrambi anche, come dire, secondo il nostro modo di parlare, condizionanti si l'uno col l'altro. Nel senso che la misericordia di Dio è sempre una misericordia giusta. E la sua giustizia è una giustizia misericordiosa. Ora, attenzione che la prova proprio lampante dell'esistenza della giustizia di Dio è semplicemente la vicenda storico-terrena di nostro Signore Gesù Cristo, perché la sua dolorosa passione morte non è stato altro che un ripristino perfetto, anche tutta la sua vita terrena, dell'ordine della giustizia violata. Chi conosce, per esempio, bene anche gli scritti sulla Divina Volontà lo sa bene. Tutto ciò in cui gli esseri umani hanno mancato, turbando l'ordine perfettissimo di una perfetta consonanza con la Volontà Divina, Gesù lo ha ripristinato per tutti e per ciascuno, ricompiendo e rifacendo gli atti di tutti gli uomini. Quindi, attenzione alle vulgate, adesso ammalianti, perché siccome tutti quanti vorrebbero il Paradiso a buon mercato, che si vada in Paradiso qualunque cosa uno abbia fatto, tanto Dio è buono, è misericordioso, l'inferno o non esiste, oppure se c'è, tanto è inutile che ci stia, perché ci stanno forse i demoni, se qualcuno ci crede, se non ci sta proprio nessuno, ma questa operazione, oltre che essere falsa, perché noi contro la verità e andare in giro a dire stupidaggini e insulsaggini non ci può mai fare. Ma tra l'altro questa qui è esattamente ciò che fa, come dire, fare le feste in maschera ai demoni tutti, perché dimenticare la sacrosanta giustizia di Dio e anche come funziona è, come dire, incentivare fortemente la possibilità di andare a finire all'inferno. D'accordo? Ecco, quindi, attenzione, certamente adesso noi parleremo della giustizia in quanto virtù cardinale che riguarda noi, ma la giustizia in primis spetta a Dio, perché soltanto Dio, ripeto, è capace di dare a ciascuno di noi veramente il suo, ma soltanto da un punto di vista di retribuzione dell'azione, ma anche di dare ciò che è giusto. Quando noi ci troveremo davanti all'Altissimo vedremo che la giustizia di Dio è stata perfettissima in tutto ciò che ha caratterizzato la nostra esistenza. Qui non lo possiamo vedere, ma allora lo vedremo. Allora, fatta questa piccola premessa, quindi diamo un pochino chiare le coordinate bibliche, che quando Gesù nel Vangelo dice Beati quelli che hanno fame e sede della giustizia, la giustizia consiste nel fare perfettamente quello che Dio vuole. Quindi dire fame e sede della giustizia vuol dire Beati quelli che hanno fame e sede di essere giusti, cioè di essere santi. Ora, della giustizia, quando Sant'Omaso apre il capitolo, sapete che i grandi cultori della giustizia in passato erano i romani. sapete che è stato il grande giurista romano, ulpiano, grandissima giurista, come nota Sant'Omaso, che diede della giustizia una splendida definizione perfettamente coerente, peraltro, con la fede cattolica, tant'è vero che Sant'Omaso stesso non esitò a sottoscriverla praticamente ad litteram. Che cos'è la giustizia? La volontà perenne è costante di dare a ciascuno il suo. Volontà perenne è costante di dare a ciascuno il suo, cioè ciò che è giusto, cioè ciò che gli spetta, gli spetta proprio a rigore. E questa definizione non è altro che una puntualizzazione dell'antichissimo concetto romano della giustizia, sum cuique tribuere, dare a ciascuno il suo. E per chi vuole farsi un pochino di ripasso della gloriosa cultura romana nata in epoca che trova chiaramente la sua età aurea in epoca repubblicana, non nella corruzione imperiale, ma il romano quindi che voleva incarnare diciamo l'ideale del romano perfetto e quindi andare proprio alla base del grande ordinamento giuridico romano e quindi delle basi assiologiche, grandi valori. Tre erano, sum cuique tribuere, poi oneste vivere, vivere onestamente, e alterum non ledere. se anche oggi si osservassero bene queste cose, certo, queste non bastano per essere santi secondo la fede divina e cattolica, però certamente se si osservassero tutte e tre bene, beh, sicuramente la vita sarebbe molto meno peggio. Prima della definizione di Ulpiano storicamente venne quella inevitabilmente citata da San Tommaso perché è il suo punto filosofico di riferimento, cioè del grande staggirita filosofo greco Aristotele, cioè l'abito mediante il quale l'uomo agisce conformemente alla scelta che ha fatto di ciò che è giusto. in ambito cattolico ecco oltre a quella già citata di San Tommaso d'Aquino quindi la volontà perenne costante di dare a ciascuno il suo merita anche una citazione la definizione che ne diede Santa Ambrogio grande Santa Ambrogio il maestro di Sant'Agostino virtù che dà a ciascuno il suo non esige l'altrui e sacrifica il proprio vantaggio al bene comune questa è la giustizia secondo Sant'Ambrogio ora già in base a queste prime delucidazioni diciamo così definitorie si comprende che quando iniziamo a parlare di questa virtù dobbiamo innanzitutto stabilire chi siano gli altri dato che dare a ciascuno il suo chi sono questi ciascuno e cos'è esattamente questo suo allora gli altri possono essere semplicemente i nostri simili oppure Dio ora gli obblighi verso Dio vedremo sono puntualmente regolati dalla forma più alta della giustizia che è la religione che ci dà il contenuto del suo divino i bagani lo chiamavano il fas sapete che avevano il fas e lo ius il fas era ciò che era dovuto agli dei ciò che era giusto fare nei confronti degli dei ossia l'osservanza di tutte le leggi di divine ma in particolare quei comandamenti che hanno Dio come termine oggetto quindi ciò che tu devi fare nei confronti di lui in quanto lui ciò che gli è dovuto qui vedremo quante cose scopriremo ci renderemo conto di quanti gravissimi peccati oggi si fanno nei suoi confronti senza che proprio ci sia minima nemmeno consapevolezza a volte o il giusto dovuto ai nostri simili lo si deve considerare quello che i romani chiamavano lo ius quindi c'era il fas che era quello dovuto agli dei e lo ius che era quello dovuto ai nostri simili però i nostri simili non sono tutti uguali anche se oggi questi termini fanno storcere la bocca all'uomo moderno e contemporaneo io posso avere tre tipi di 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 relazioni con il prossimo da pari a pari quindi con un mio uguale con un mio superiore o con un mio inferiore nel caso del 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 rapporto tra come dire due persone uguali quindi tra il singoli si di giustizia particolare o commutativa e che segue la regola dell'eguaglianza quindi avendo tutti gli uomini gli stessi diritti si hanno nei loro confronti i reciproci doveri che sono uguali per tutti o nel caso invece di rapporti tra il singolo e un superiore cioè un'autorità costituita oppure tra il singolo e la collettività in Grecia era la polis a Roma era la repubblica era Roma la giustizia prende il nome di giustizia legale è passato questo termine anche nel linguaggio comune che cos'è la legalità la legalità è l'osservanza delle leggi che vengono imposte chiaramente dalle autorità che hanno il compito di poterle emettere qui non c'è uguaglianza e reciprocità tra diritti e doveri nel senso superiore sono dovute delle cose per esempio l'obbedienza e l'onore come vedremo che non sono dovute ai nostri pari cioè un mio pari lo devo rispettare non onorare e non nessun obbligo di obbedirgli in delle cose che dice se è un mio pari lo posso ascoltare d'accordo posso anche come dire sposare una sua idea un suo consiglio ma non c'è nessun obbligo di sottostare a quello che dice e invece nei confronti dell'autorità c'è come vedremo e come o invece nel caso contrario quindi io ho un inferiore e quindi questo vale anche i doveri delle autorità verso i loro sottoposti e della collettività verso il singolo quindi diciamo così la giustizia dall'alto al basso sia quella che si chiama la giustizia distributiva o retributiva nel senso lo dicono già i termini la distributiva nel senso che deve dare chi sta in alto deve dare a ciascuno ciò che è necessario e giusto dargli per vivere e al tempo stesso deve retribuire nel bene o nel male quello che il sottoposto fa se è bravo dargli un premio e se è cattivo dargli un castigo questo lo vediamo anche come dire nella vita comune se una persona una cittadina esemplare una bravissima persona che si che si distingue per particolari meriti ti chiama il presidente della repubblica e ti fa diventare ufficiale commendatore eccetera eccetera se tu sei un delinquente che trasgredisci la giusta ne vai in galera è finito il discorso insomma tanto semplice quindi l'autorità non deve soltanto esigere ma deve anche dare la giustizia distributiva e dare quello che è giusto e prendere però a ciascuno quanto merita sia in bene che in male questo lo fa anche il nostro signore Gesù Cristo anche la Santissima Trinità la giustizia distributiva di Dio è stupenda nel senso che lui dà veramente tutto ciò che è giusto senza che manchi nulla e te lo dà fino all'ultimo centesimo volendo utilizzare la metafora economica ma la sua come dire retribuzione è perfettissima nel senso che se c'è anche un bicchiere d'acqua come dice Gesù nel Vangelo che se viene dato non perde la sua ricompensa c'è anche una parola inutile che però non perde la sua retribuzione di ogni parola inutile sarà richiesto contro dal giudizio ai figli degli uomini così come se tu dai anche solo un bicchiere d'acqua non perderai la tua ricompensa questo Gesù lo dice carissimamente nel Vangelo corre sempre quando sento alcune sciocchezze insomma che si sentono dire in giro adesso a semine esistenza della giustizia di chi io dico ma vogliamo essere un attimo minimo insomma coerenti logici insomma noi dobbiamo stare a ciò che è scritto non posso io rielaborare reinventarmi tante cose come stanno le cose per Dio noi lo conosciamo anzitutto dalla liberazione non è tanto difficile andare a rendersi conto come funziona la giustizia per Dio e la divina giustizia quindi vedendo già semplicemente soltanto le Sacre Scritture comunque oh capiamo che questa virtù oltre che a perfezionare come tutte le virtù la persona che la possiede e la esercita ogni virtù esercitata è un perfezionamento della persona perché noi siamo esseri in divenire per cui come fa una persona a diventare migliore o peggiore facilissimo dipendere agli atti che noi facciamo gli atti volontari quanti più atti buoni facciamo tanto migliori diventiamo quanto più atti cattivi facciamo tanto peggiori diventiamo ma gli atti come dovremmo aver ormai capito non sono altro che concretizzazioni o di un vizio o di una virtù faccio un esempio sciocco un atto impuro è la concretizzazione del vizio della lussuria d'accordo e un atto di di misericordia è la concretizzazione della virtù della carità tanto per dire tanto per fare gli esempi più sciocchi no? ecco allora però questa virtù non perfeziona soltanto la persona che la pratica attenzione ma questa porta benefici e vantaggi agli altri perché se noi siamo giusti non avremo soltanto come dire una elevazione della nostra personalità ma porteremo dei benefici in giro a tutti a chi è più di noi a chi è come noi e a chi è meno di noi e quindi è stata definita non senza ragione dagli scrittori la virtù più eccellente tra quelle cardinali appunto per questa motivazione perché apporta dei benefici oggettivi anche al prossimo e anche se a Dio non può essere apportato niente più di quello che ha vedremo che la virtù della religione agisce in ciò che si chiama la gloria accidentale di Dio che non è quella essenziale che è la sua e che possiede a prescindere che nessuno gli può togliere e che nessuno gli può misconoscere perché se anche gliela mi sconosci ce l'ha lo stesso ma la gloria accidentale che a lui non gli fa di per sé né caldo né freddo ma è quella che le creature sono tenute a dare a Dio per tutto quello che hanno ricevuto allora qui esercitare bene la virtù della religione significa dare a Dio ciò che gli è dovuto e questo Gesù l'ha detto nel Vangelo rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio quando si ha il termine rendere rendere vuol dire restituire qualcosa che è dovuto non è una cosa che tu dici vabbè se gliela voglio dare gliela do adesso non gliela do no no tu gliela devi dare è chiaro che in quella glielo devi dare è insito il fatto che tu liberamente devi scegliere di darglielo perché ripeto se ci fosse qualunque forma di costrizione dove c'è la costrizione non si può parlare di virtù perché la virtù così come il vizio ha come prerequisito essenziale la libertà non si può parlare di virtù perché se non c'è la libertà la volontà non può muoversi di proprio arbitrio come ha il diritto di fare perché quel diritto glielo ha dato l'altissimo verso una direzione o verso un'altra ok quindi spero di riuscire a focalizzare questi concetti essenziali ora connesso alla giustizia anche qui dovremmo fare un pochino di chiarificazione perché la giustizia cioè ius agere quindi fare il giusto è connessa anche con lo ius dicere cioè dire il giusto cioè giudicare dichiarare il giusto anche qui le sentenze evangeliche che esortano a non giudicare e non si deve mai farlo vanno rettamente interpretate perché noi giudichiamo in continuazione e dobbiamo giudicare in continuazione quando Gesù dice di non giudicare intende proibirci ciò che solo Dio può fare con perfezione perché ha tutti quanti gli elementi per poterli fare che cosa che noi non possiamo mai giudicare le intenzioni delle persone l'interno delle persone perché non lo possiamo conoscere a volte non conosciamo bene neanche l'interno di noi stessi perché noi possiamo tranquillamente illuderci o ingannarci circa le nostre reali intenzioni adesso non voglio fare il solito spot pubblicitario basta andare a vedere il ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo nella parte un pochino centrale dove si vede che tu sei sicuro di saperti giudicare noi non possiamo giudicare primo le opere di Dio mai e per nessun motivo perché le opere di Dio sono quelle su cui dobbiamo proprio stare zitti in maniera assoluta invece gli uomini stanno in continuazione a giudicarle perché non abbiamo assolutamente nessun tipo di parametro nessun tipo di legittimazione perché quello che Dio fa è completamente al di là e al di sopra della nostra possibilità non soltanto di comprensione ma anche di conoscenza quindi questo è proprio un campo dove dobbiamo astenerci perché Dio fa bene tutte le cose punte e basta a prescindere o un'altra cosa da cui dobbiamo astenerci da giudicare sono le persone e le intenzioni che hanno questo perché perché noi non le possiamo conoscere solo Dio conosce perfettamente l'interno delle persone la consapevolezza che una persona ha del bene o del male quanto l'eventuale non consapevolezza è colpevole o incolpevole quali sono le circostanze che possono aggravare o attenuare una certa azione quanto e come se ha influito come si vede nel ciclo di catechichesi non senza la vita dei cieli l'ambiente in cui la persona è vissuta il contesto familiare le ferite i traumi nessuno di noi può fare questo tipo di rivaluzione e attenzione non possiamo farla neanche su noi stessi in maniera adeguata e quindi dobbiamo astenerci solo che la regola è questa qui guardate Dio fa sempre tutto perfetto il prossimo va sempre possibilmente giustificato o compreso noi quando invece ci rivolgiamo verso noi stessi è sempre meglio che ci mettiamo all'ultimo posto e che ci riteniamo i peggiori di tutti i più colpevoli di tutti invocando su di noi la giustizia e non la misericordia le invochiamo per gli altri la misericordia per noi sì ma dopo la giustizia questa è la via migliore se uno vuole imbarcarsi bene nel cammino verso la santità a Dio si attribuisce sempre la perfezione assoluta al prossimo la bontà delle intenzioni a priori a noi no tutto il male possibile immaginabile guardate cosa fanno le persone comuni Dio lo bestemmia in continuazione quando non con le bestemmime da scaricatore di porto stando sempre continuamente a lamentarsi come gli israeliti nel deserto o a giudicare il suo operato perché 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 sul prossimo si sparano sentenze giudizi critiche memorazioni in continuazione a invece su se stessi a io sono una brava persona a io non faccio niente di male a io questo e io quest'altro questo è ciò che quindi capite come le persone mondane facendo questo stanno trasgredendo in tutte le forme possibili immaginabili a priori la giustizia e stanno sballando tutti quanti i giudizi invece il giudizio che sempre dobbiamo fare sempre sempre è quello sull'oggettività delle cose e dei comportamenti facciamo subito qualche esempio qualche esempio qualche esempio oggettivo di stretta attualità due persone che convivono e non sono sposate non si possono confessare non possono essere assolte se un sacerdote le prende perché magari le vede che fanno guarda figlio mio che tu non ti puoi fare la comunione che non puoi essere assolto se vi in questa condizione ah come si permette padre lei mi sta giudicando no questo non è un giudizio sulla questo non è un giudizio sulla persona è un giudizio sulla fattispegna sul comportamento basato su un semplice fatto un battezzato è questo basato il diritto canonico non può avere nessuna forma di vita matrimoniale che non sia quella sigillata dall'alzacramento del matrimonio con la conseguente vita sessuale che accede come possibilità evidentemente al matrimonio da un punto di vista oggettivo quando questa cosa non c'è tu puoi avere tutte quante le giustificazioni di questo mondo possibile e immaginabile tutta la buona fede la mancanza di educazione le circostanze attenuanti non lo so che cosa sia questo a me non interessa questo te lo vedi con il padre eterno ma il fatto oggettivo è questo e di questo non devi prendere coscienza cioè dire non giudichiamo le persone non significa mai di rinunciare a qualificare nel bene o nel male un'azione o un fatto attenzione perché questo è un punto nevralgico di questi nostri tempi balordie perché la cultura e gli stati in cui viviamo e si perdoni se faccio queste premesse però questo è un ciclo di catechesi che non è soltanto come dire una piccola scuola di virtù ma deve anche aiutare a comprendere alcune dinamiche e allora gli stati contemporanei tutti gli stati contemporanei sono figli di quello che si chiama di un fenomeno che si è chiamato a suo tempo il positivismo giuridico adesso non sto non entro adesso non entro non voglio fare discorsi per far capire gli stati moderni non riconoscono né in Dio né nell'oggettività delle cose dei punti di riferimento per la propria legittimazione categorizzato questo cosa fa uno Stato? uno Stato si autoda da solo una costituzione che sarebbe il punto di riferimento e la cosiddetta norma fondante in base alla quale poi tutte quante il resto delle leggi si autogiustificano e autolegittimano senza nessun riferimento ad un presunto e per loro inesistente confronto con una morale o una legge che in qualche modo precede condizioni la stessa attività legislativa dello Stato spero di essere sto cercando di spiegare queste cose in maniera più semplice possibile se questa cosa non ci fosse stata voi capite bene che in Italia così come altrove una legge come l'aborto non sarebbe mai potuta essere stata approvata mai così come la fine della famiglia mai e così come tante altre cose che hanno approvato nel corso del tempo che hanno approvato da poco che sono in via di approvazione d'accordo la variante diciamo così più recente di questo tipo di discorso è la cosiddetta laicità dello Stato dove però che questa qui per carità è un concetto per certi aspetti serrettamente compreso accettabile ma di fatto quando si fa riferimento a questo concetto non è altro che un rafforzare ulteriormente questo principio dice guarda io ho una un mio parametro eh personale diciamo così anche se lo Stato non è una persona di giustizia e su questo non ci mette in bocca nessuno non ci mette in bocca nella chiesa nella religione né niente che non sia io stesso su questo tutti quanti noi dobbiamo riflettere e pensare e dire va bene una cosa di questo genere va bene che così facendo di fatto andiamo a rispolverare l'antichissimo adagio del sofista Protagora che diceva è l'uomo è la misura di tutte le cose di quelle che sono in quanto sono di quelle che non sono in quanto non sono perché questo di fatto è questo di fatto è sapete che il punto come dire di di riferimento estremo al negativo dell'aborto è l'eutanasia che a quanto pare è in via di approvazione in Italia anche in Italia sempre con la base dei soliti argomenti perché questo è una conquista del diritto perché gli stati più avanzati delle democrazie più avanzate di noi ce l'hanno e poi non vuoi garantire una vita un pochino degna tu garantisci a una persona il diritto di morire in maniera dignitosa senza le umiliazioni delle sofferenze di queste cose qui quindi a chi vuole poi ovviamente non è che si impone niente a nessuno allora ciò che rende possibile legiferare in questo senso senza che ci sia nessuna corte costituzionale che dice questa legge non si può fare perché nessuna corte costituzionale ha mai detto che non si può fare la legge sull'aborto nessuno qual è? è l'avesdo ganato il principio che la vita sa che la vita umana non è una realtà indisponibile disponibile vuol dire che non posso decidere su quella né se farla venire e né quando farla scomparire non si può non si può ma per poter arrivare a questo qui tu devi ammettere tu devi ammettere la legge naturale se non vuoi ammettere Dio e il fatto che la vita viene da lui e che quindi lui soltanto è il padrone della vita e della morte e nessuno può arrogarsi questo diritto ora attenzione il fatto che gli stati laici si sciacquino la bocca con la laicità dello Stato che cosa pensano di risolvere forse pensano quando un uomo moriranno e si troveranno davanti a Dio gli dirà va bene non vi dico niente perché c'era il principio della laicità dello Stato e quindi pensano questo io auguro loro che sia così ma non sarà così attenzione non sarà così perché il bene e il male hanno una dimensione oggettiva che si può e si deve riconoscere quindi attenzione all'interpretazione anche qui strampalata stravolta arbitraria di alcune cose come dire anche biblicamente fondate Gesù è tassativo nel dire non giudicate ma non giudicate mai e per nessun motivo le intenzioni del prossimo non giudicare neanche te stesso San Paolo scrive anzi io il mio giudice è il Signore io non giudico neppure me stesso perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna non per questo sono giustificato dice San Paolo nelle sue lettere dice che peccati hai fatto io al momento non mi sento di aver fatto peccati mortali non mi sembra bisogna sempre dire non mi sembra perché tu non puoi esserne sicuro al 100% quindi non si giudica il prossimo non si giudica se stessi non si giudica Dio ma si giudicano sempre in continuazione situazioni fatti e comportamenti questi sì e come e l'ausilio per il giusticere l'abbiamo già visto è la virtù cardinale della prudenza e i comportamenti oggettivi e le realtà oggettive debbono essere giudicati in base a tre criteri primo il criterio della giustizia cioè nel valutare le cose e nel giudicare le cose occorre acquisire i corretti parametri di valutazione altrimenti si incorre in quello che è il giudizio perverso tante volte stigmatizzato dalla saga scrittura siete giudici dal giudizio perverso si legge nelle lettere di San Giacomo poi bisogna avere l'autorità per emettere il giudizio cioè il giudizio deve essere pertinente alla sfera di interesse o di competenza di chi giudica altrimenti si cade nell'usurpazione e gli uomini sono usurpatori per antonomasia faccio un esempio che è molto molto frequente qualcuno ogni tanto per giustificare come dire impennate di vario genere scorribbande di vario genere anche a livello intra ecclesiale dice ah ma nostro signore è andato tra i mercanti del tempio a fare il fin mondo a rovesciare i manchi dei cambiavalute a fare una sferza di cordicelle a menarle a destra e a manca quindi lo posso fare pure io insomma insomma perché nostro signore ha fatto questa cosa dentro il tempio di Gerusalemme era fatto primo perché era nostro signore e secondo perché quelli stavano facendo di guai a casa sua perché il tempio era casa di Dio lui è Dio d'accordo poteva farlo anche perché ben sapeva che quei comportamenti erano colpevoli perché lui conosceva l'interno di quelle persone e poteva farlo perché lui solo poteva giudicare e stabilire che per quella situazione con quelle persone e in quel contesto e in quelle circostanze dargli una bella lezione di quel tipo era la cosa più giusta e migliore da fare noi siamo sicuri di essere capaci di poter fare correttamente tutti quanti questi giudizi o di avere l'autorità di poter fare qualcosa del genere punto interrogativo terzo criterio per emettere qualunque giudizio quindi abbiamo visto la giustizia l'autorità e il terzo è la rettitudine cioè il giudizio deve essere informato a prudenza e deve essere un giudizio il più possibile imparziale e oggettivo altrimenti altrimenti si cade nel giudizio temerario che è sempre presente quando si giudicano le intenzioni delle persone e non i comportamenti oggettivi però l'oggettività del giudizio è falsata in sé anche quando manca la rettitudine cioè per esempio quando si giudica gravissima una cosa da nulla e si giudica una cosa da nulla una cosa gravissima questo è un giudizio che manca di rettitudine allora attenzione concludendo questa questa parte che come sempre si regge negli scritti di di San Tommaso abbiamo due grandi autori che sono il Santillario di Votiesa Giovanni Crisostomo il primo afferma che il giudizio sulle cose divine per noi è assolutamente possibile e quindi non possiamo mai e per nessun motivo farlo amici miei chi non ascolti questa catechesi io lo prego in ginocchio ascolti queste situazioni non sono cose mie Dio lasciatelo perdere lasciamolo perdere non entriamo mai in contesa o in giudizio con quello che lui stabilisce mai e per nessun motivo neanche dinanzi cioè dire a Dio perché permetti questo non si deve dire mai mai per nessun motivo le cose divine per noi sono impossibili da giudicare impossibili non abbiamo nessuna possibilità oltre che nessuna legittimità ma chi di noi si può mettere a giudicare Dio soltanto qualche qualche fuori di testa insomma allora e l'altra cosa altra cosa da cui guardarsi come dalla peste bubonica oltre che il giudizio sulle cose divine è il giudicare con malizia e animosità allora questo accade quando si tra quando si traggono per esempio frettolose conclusioni da semplici sospetti allora qui io prego chi ascolta per favore perché non sempre si possono fare esempi di comprendere bene queste cose allora io posso avere il sospetto di una cosa il sospetto anche radicato profondo il sospetto supportato da una serie di indizi plausibili possibili ma fino a quando una cosa non è provata provata io non posso dire è così e attenzione se io dovessi dire è così e casualmente lo fosse non significa che davanti a Dio non sarò accusato di aver mancato alla giustizia perché anche come dire se il mio sospetto come dire dice vabbè ho assecondato questo sospetto e ho detto così poi alla fine si è dimostrato che c'avevo ragione no perché tu sulla base di un sospetto puoi dire forse potrebbe essere così forse però non è così quindi non si traggono mai frettolose conclusioni da semplici sospetti per quanto possano essere fondati prego di far funzionare bene il cervello e applicare correttamente questo importantissimo criterio altra cosa caratterizzante il giudizio malizioso e animoso quando i giudizi diventano tendenziosi cioè dovuti al disprezzo della persona cioè siccome io io ce l'ho con quella persona nel senso non ne condivido le idee non mi sta simpatico o mi ha fatto qualche cosa dentro la testa mia questo lo devo sapere mi si cominceranno a formare tuttanto una serie di idee che turbano e alterano il giudizio nei confronti di ciò che quella persona dice e fa in senso tendenzioso si esagererà generalmente si faranno spesso e volentieri completamente delle illazioni illazione vuol dire che tu fai un'inferenza logica quindi tu desumi e deduci una cosa in maniera assolutamente secondo te certa è inequivocabile da una spia da un indizio che di per sé può essere interpretato in tanti altri modi capite? e qui rifaccio un'altra volta l'esempio limite l'ho fatto in tanti altri interventi che facevano i monaci i padri del deserto guarda che se tu vedi una signorina bella procace che entra dentro la cella del tuo confratello e ne esce dopo un pochino di tempo tutta quanta spettinata scarrufata eccetera eccetera tu che pensi? se tu c'era con quel confratello giudizio eccolo qui tendenzioso illazione c'è bisogno che specifico ah hai visto quello chi lo sa quella che è andata a fare là dentro giusto? per non cadere in questo tu devi dire esce così probabilmente sarà stata indemoniata e quello gli ha fatto un esorcismo o una preghiera di liberazione è stato uno scontro e questa è uscita 80 spettinata per questo motivo basta questo è il giudizio non tendenzioso chiaramente l'ira ancora più quando è causata dall'odio tutte queste considerazioni che sto facendo adesso vengono da Giovanni Grisosto ma non da me altera ancora di più il giudizio ecco perché San Paolo l'abbiamo visto parlano dell'ira dice attenzione che nell'ira non peccate l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio mai formulare giudizi quando siamo arrabbiati con qualcuno mai perché sicuramente cadremo nel giudizio tendenzioso o in le azioni totalmente gratuite ecco allora io direi che possiamo fermarci oggi con queste note introduttorie sì penso proprio di sì mi raccomando facciamo un pochino una sintesi di questa prima abbiamo visto una panoramica biblica sul senso della giustizia nella sacra scrittura sull'affermazione della giustizia di Dio abbiamo visto i principi generali della giustizia le definizioni i soggetti verso cui si esercita quindi la giustizia commutativa la giustizia legale la giustizia distributiva o retributiva abbiamo visto la differenza tra la giustizia e il giudizio e anche l'importanza di acquisire i corretti parametri per giudicare con oggettività e obiettività i comportamenti le cose e le situazioni sulle quali il nostro giudizio si deve sempre esplicare senza mai cadere però o nel giudizio temerario o nel giudizio fazioso ecco o tendenzioso o totalmente caratterizzato da inammissibili illazioni nei confronti del prossimo la prossima volta cominceremo a vedere un pochino come è strutturata questa virtù quindi le parti della giustizia e quindi la distinzione poi e l'individuazione di ciò che riguarda la giustizia verso Dio e verso i superiori verso i nostri pari e poi verso chi è più piccolo di noi questa è un pochino ecco la road map che ci attende nell'analisi di questa virtù fidiamo se Dio vuole appuntamento perché ci sarà la prossima puntata intanto che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga e la prossima puntata